Tra riordino del piano nazionale degli aeroporti di cui nessuno sembra interessarsi, presenza dei vettori in regime di prorogazio con la venuta scadenza del contratto stipulato con Ryanair nel 2017, gli obiettivi di privatizzazione della società di gestione Maisopiti, poniamo all'attenzione di tutte le parti in causa la necessità di una immediata analisi delle prospettive dell'aeroporto d'Abruzzo. E questa è la richiesta di Filt CGL, Filt Cisla e Will Trasporti, i punti evidenziati da Franco Rolandi, Filt CGL. Intanto vogliamo evidenziare che è stato predisposto una bozza di piano nazionale degli aeroporti, individuando delle reti nazionali, delle reti territoriali e nella rete centrale dove figurano gli aeroporti abruzzese, Marchigiano e Umbro, è stato individuato l'aeroporto di Ancona quale aeroporto nevralgico di questa rete centrale. Vorremmo capire i criteri. Atteso che l'aeroporto d'Abruzzo ha una funzione particolare anche per garantire dei voli di Stato, mi riferisco al nucleo elicotteristi dei Vigili del Fuoco, della Guardia Costiera, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza. Sono tutti voli di Stato, servizi di Stato che gli altri aeroporti non hanno. Così come c'è un discorso legato alla prospettiva dei passeggeri che utilizzeranno l'aeroporto. Lo stesso piano prevede che nel 2035 addirittura l'aeroporto d'Abruzzo potrà contare su circa 1.300.000 passeggeri, quasi il doppio di quello previsto per l'aeroporto di Ancona. Come sindacati ci rivolgiamo inoltre alle istituzioni per sapere quale sarà lo sviluppo dell'aeroporto d'Abruzzo. Atteso che il contratto con Ryanair è scaduto dal 2017, quindi va individuato, va fatto un nuovo bando per individuare il nuovo o i nuovi vettori, così come va individuato il nuovo direttore generale. Da diversi mesi un aeroporto, quello d'Abruzzo, di interesse nazionale, non dispone di un direttore generale. Oltre al trasporto dei passeggeri prosegue, si stanno facendo investimenti anche per il trasporto merci. Però atteso che ci sono stati programmati degli investimenti infrastrutturali, vorremmo capire anche lì quali siano i vettori che debbano poi gestire questi voli di natura commerciale. Grazie. 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 Grazie.